250 spettatori, ingresso a turni, mascherine e gel igienizzante mani sono la chiave della proposta fatta al ministro Franceschini da Ravenna Festival e Agis per un protocollo di concerti sinfonici da giugno alla Rocca Brancaleone della città bizantina. Il progetto sarà presentato adesso alla Task Force incaricata dal Presidente del Consiglio di gestire la fase 2. Il piano al quale aderiscono i protagonisti della filiera della musica, Anfalz, Atit e Italia Festival, potrebbe rendere possibili i concerti nelle arene all'aperto, nel rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus, garantendo la massima sicurezza di pubblico, artisti e personale. Il modello di riferimento rappresenta un caso di studio cui guardano con favore e speranza anche altri festival e teatri italiani per ritornare alle esecuzioni live nell'estate 2020 e permette di accogliere fino a 250 spettatori, ospitare sul palco, orchestra e fino a 62 elementi. Il festival intende combinare la trasmissione in digitale e televisiva di quegli stessi eventi e di altri spettacoli filmati invece in assenza di pubblico per costruire un programma estivo ad hoc accessibile a tutti. Ravenna Festival vuole così lanciare un segnale di attività e desiderio di ricominciare anche all'interno dei limiti imposti da un contesto senza precedenti come quello che il paese sta attraversando.